Con la fine dell'estate terminano anche i lunghi pomeriggi illuminati dalla luce naturale del sole, così per giocare all'aria aperta bisogna andare al parco anche all'imbrunire. Sono numerosi infatti i bambini che insieme alle famiglie passano qualche ora pomeridiana nelle aree giochi cittadine, come nel caso del parco Robinson. Nello stesso sono presenti scivoli, altalene, giochi adatti alle diverse fasce d'età. Alcuni genitori però ci hanno segnalato la scarsa illuminazione di una delle zone in cui è suddivisa l'area giochi, lì dove è presente la struttura più grande, con tre scivoli di cui uno coperto, rendendo la permanenza dei più piccoli poco sicura. I lampioncini installati lungo il perimetro infatti in alcuni punti sarebbero in parte oscurati dalla vegetazione, ad influire sulla poca luce in quella zona in particolare anche la presenza di un corpo illuminante non funzionante. Lì c'è un impianto di illuminazione che purtroppo col crescere degli alberi è stato un po' occultato. Nell'immediato vediamo di provvedere con lo sfoltimento delle fronte degli alberi in modo da dare più respiro anche all'illuminazione. Poi comunque i tecnici valuteranno la possibilità, se è necessario, anche di implementare l'impianto di illuminazione, magari integrandolo con dei corpi illuminanti in aggiunta. Intanto si ripresenta anche un altro problema, quello dei giochi danneggiati, risulta infatti mancante un pannello in uno degli scivoli. Purtroppo questo è una cosa che spesso si ripete perché vengono utilizzati in malo modo, magari sono dei ragazzi più grandi che utilizzano i giochi per i bambini eccetera. Con l'ufficio manutenzione vedremo un po' di rimetterli in sesto.